Le precarie condizioni della viabilità che si registrano sulla strada statale 115 sono state stigmatizzate anche dalla sindaco di Butera Luigi Casisi che ha messo in evidenza lo scarso grado di manutenzione prestata negli anni sull'importante arteria di collegamento, diventata tristemente famosa per la sua pericolosità e per il sempre crescente numero di sinistri. L'unica strada che è rimasta nel meridione dove non c'è una risposta seria è questa strada, dove c'ha delle peculiarità ma subisce in questo caso anche delle perdite e quando si parla di perdite umane è giusto che si interviene. Il primo cittadino di Butera si è poi detto disponibile ad organizzare un incontro per sedersi attorno ad un tavolo con i vertici dell'ANAS così da trovare insieme al gestore della rete stradale una soluzione ad un problema che rischia di assumere dimensioni e numeri di vite umane spezzate sempre maggiori. Se c'è di fare qualche protesta io sono pronto a protestare attraverso anche sempre una protesta democratica dove possiamo incontrare anche l'ANAS regionale, l'ANAS nazionale io sono disponibilissimo a chiedere immediatamente un incontro perché bisogna agire in questo senso chiediamo un incontro direttamente ai capi dirigenti dell'ANAS dove presentiamo la nostra proposta questa proposta deve essere fattiva ci deve essere per forza una risposta perché non è possibile che tanti investimenti vengano dirottati altrove che non è possibile che tanti investimenti vengano